Ne sta sbagliando una dietro l'altra lì, ragazzi. Dopo il confronto poteva tranquillamente finire lì, invece no. È lì. È lì vuole di più. Ma questa è Abby, invece. Ok, Constance. Ora cerchiamo... Siamo stati qui la settimana scorsa. Hai sacrificato una pistola per questo. È con... È l'elastico alla coscia per la ferita. Beh, io no. Vieni. Io pensavo di ripartire con Ellie, e invece no. 24, 10. Bravo, sai leggere. Può essere su questo lato. Sono tutti pari. Che questa è un'ambientazione molto alla Call of Duty. 24, 25, è di qua. Sì. Anche perché... Dina abbandonata. Tutti gli altri morti. Tommy sparito. Sono rimasti Abby, Lev. E... 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 Questo è veramente The Last of Us. 24, 17. Fuochino. Fuoco. Io sto già sudando. Sei sempre... Non ha capito. Cosa? Niente. Che strani graffiti. Sono... Delle luci? No. Non che io sappia, almeno. Abbiamo un cazzo. 52. Attenzione. Più slancio. Che dove fa? Infetti. Sicuro. Sapevo, io. Fantastico. Come iniziare bene la giornata, ragazzi. Ok. Dov'è? Bene. Ovviamente non mi ha dato nulla. Però mi piacerebbe se avvicinasse anche quella, di la verità, eh. Dov'è? Dov'è? Ok. Giù. C'è un clicker sicuramente, ragazzi. E dintorni c'è qualcosa da prendere? Non credo, per ora. Dov'è? Giù, 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 giù. Certo ci avessero qualcosa da darmi Saluto al massimo Vero che c'è rimasto solo questo clicker Quindi potrei Potrei un cazzo Non c'ho nulla raga Non c'ho niente Lancia fiamme zero Raga ha perso tutto Pugnali niente Raga è un'infamata assurda questa Oh cazzo Oh merda Via Testa Risolto il problema Alcol Oh Bene così Non volevo arrivare a questi punti Ma mi c'è costretto Quindi buona Tutto questo per Un cazzo Strumenti di fissaggio e basta Bello Bellissimo Nell'area Call of Duty Non c'è veramente nulla A me l'ho visto che tu puoi Modificare la difficoltà In corsa anche Quante risorse trovare Ho messo tutto intermedio Ragazzi Cioè lo sapete C'è ok tutto Ma c'è un limite Vediamo Ok C'è nulla qui No Sembra abbandonata da anni Emma va Continua a cercare Hanno dipinto gli interni Come fossero all'aperto Ma le piante non sono fatte così 24 25 Constance La casa è questa Santa Barbara Come Come fai a dirlo Come fai a dirlo Ragazzi ho dimenticato Una stanza Questa Vuoto Ovvio Chiusa Forse Forse C'è un altro ingresso Eh per forza Cerco solo di aiutare E quando mai non hai Eccolo qua L'ingresso Una munizione per pistola Una munizione per pistola Che mi viene restituita bene così Non può essere C'è tutti i potenziamenti Cose varie Sparito tutto A parte Le cose con gli integratori Tutto perso Bruttissimo Bruttissimo Guardate qua come è fatto bene No Aspetta Qui dentro Hai trovato qualcosa Dove sei Qua Va spostato Il mobile Dei segni Ah ok Invece si Va spostato Il mobile Spostati Sorte fuori Un rat king No scherzo Abbiamo già eliminato Va bene così Ehi la Ok per ora niente Qui non viene nessuno da tempo Eh si è visto Purtroppo Devo darti ragione Purtroppo Palese Cioè praticamente è stata Boh E' stato dedicato Un capitolo intero A questa casa qui Fantastico Sono rimasti qui a lungo Quella è la doccia Giusto Andiamo col terzo kit medico Così poi siamo a posto Io però voglio il lanciafiamme Ecco perché forse Perché qua c'è la radio Qua c'è la luce Questa frequenza è ancora in uso Qui E non lo farei Ecco chiamate Un Un cosa Una breve lista Di numeri e lettere Fanculo Qui Abby da Santa Barbara Mi ricevete In attesa C'è nessuno Che cos'è Big Sur era Il sistema operativo del Mac Cos'era Sì qualche anno fa Questa frequenza è ancora in uso Qui Abby da Santa Barbara Mi ricevete Questi sono avamposti delle luci Non lo so Qualcuno mi riceve Pronto Questa frequenza è ancora in uso Qui Abby da Santa Barbara Pronto Pronto Ci riprova Questa frequenza è ancora in uso Pronto Pronto qui Abby da Santa Barbara Qualcuno mi sente Se mi sentite Rispondete Rispondetevi Prego Bello per la copertina Pronto Abby Oh Ti sentiamo forte e chiaro Dove sei di preciso A Santa Barbara 24-25 Constance Ci hanno segnalato una base Ma questa è abbandonata Stiamo cercando le luci Io Io sono una luce Anche a Bellito Dove è riassegnata? A un avamposto di Salt Lake Chi gestiva la base? Il dottor Jerry Anderson Era mio padre Caspita Abbiamo evacuato le stazioni ausiliari e trasferito tutti al quartier generale In quanti siete lì? Siamo circa 200 al momento Ogni mese arriva qualcuno Owen lo diceva C'è posto per altri due Dove vi troviamo? Sull'isola di Catalina Nel grande edificio a cupola di Avalon Vi troveremo Potrebbe essere una trappola Una grossa trappola Ok Ci vediamo presto Passo e chiudo Non vedo l'ora Auguri Abby da Santa Barbara Passo e chiudo Forza torniamo alla barca Per lei è finito tutto perché Ok Per lei Ellie è sconfitta Come scusa? Cosa che poteva tranquillamente essere ma Mi sbagliavo Forse Ellie non è dello stesso parere E perché non capita quasi mai Ecco lo sapevo che era una trappola Lev Chi è sto qua? C'è andato a cercare Ellie E ti sei messa contro anche il tuo popolo Dai fammi vedere Sei pronto? Che vuoi fare? Aspetta Ma che cazzo? A posto Pensa ragazzino Che è questo? Non toccarlo Non toccarlo Stronzo Una gran bella preda Una gran bella preda Grazie a tutti